Sarà Maddalena Corvaglia a condurre la nuova edizione di Paperissima Sprint. Ad annunciarlo è il sito di TV, Sorrisi e Canzoni. L'ex velina distriscia la notizia, dunque, affiancherà Vittorio Brumotti e Gabibbo, raccogliendo il testimone delle due conduttrici della scorsa edizione, Alessia Reato e Valeria Graci. L'appuntamento con la prima puntata sarà lunedì 13 giugno, ovviamente su Canale 5. Il 2016, dunque, segnerà il ritorno di Maddalena Corvaglia nella squadra di Antonio Ricci. La showgirl è annovrata tra le veline più amate, insieme ad Elisabetta Canalis. Sono trascorsi ben 14 anni, da quando nel 2002 lasciò il bancone del noto TG satirico. Oggi è pronta a tornare in grande stile. Mercedes Sanger non seguirà le urme di mamma Eva. Nei giorni scorsi, il settimanale chi aveva assicurato che è il timone di paperissima sprint ci sarebbe stata Mercedes Sanger, reduce dalla partecipazione all'isola dei famosi 2016, dove si è fatta notare per il suo coraggio e spirito pratico. Sul settimanale si leggeva. Seguendo le urme di mamma Avenger, la naufraga Mercedes Schicchi approverà a paperissima estate, programma di Antonio Ricci, che ha avuto come conduttrice Eva. Avenger, infatti, ha presentato la trasmissione di Antonio Ricci insieme al Gabibbo nel lontano 2005. A quanto pare, però, quest'anno paperissima sprint sarà condotta da un'altra bionda, Maddalena Corvaglia. Secondo TV, Sorrisi e Canzoni, le prove sarebbero iniziate già due settimane fa. Chi se ne frega.